Ti sono. Ma vero? C'è i bobovieri, bastard! Guardalo qui, i bobovieri! Scemi lacabomba! Scemi lacabomba! E poi abbiamo fatto insieme! E' cambiato l'host, quindi potrebbe lagare di brutto! Questo, questo, ragazzi, questo! Ma che giallo! Qua è... Moores non era il koala? No, non c'è nessun koala! Non c'è vero nessun koala? Nooooo! C'era il koala in Badagascar! No, che figlio di Bacca! E' figlio di Hl! Siììì! Sii, di un po... Non si fa così, eh? E' col motorino! E' fuori, tipo! Come ha vinto il Milan, unconditional! E' buona, è buona! è buona fallo, fallo, rigore rigore ma anche un bel cartellino perché è un figlio di puttana guarda, guarda attenzione vai birra Pironi basta ma basta ma che cazzo è ma lo butti fuori qualcuno aspetta dopo leggo i commenti c'è un assassino dopo leggo i commenti che questa partita è diventata infiammante infiammante, che cosa è guarda me l'hai anche rotto me l'hai anche rotto e non ti da niente dai ma c'è un testa di cazzo c'è un testa di cazzo ride non hai da ridere, io ma quanto ride tanto si va ai rigori no, ho perso ragazzo prima partita ai rigori Pironi lo tira dopo il trenino Thomas che prima ha fatto una figura di bella prima ha fatto una figura di bella godo godo e via e via e uno e uno volevo farlo centrarvi eh, se ho questo ogni volta che tiro di gore ah, volevo farlo ma cos'è lo che cazzo per me ma che c***o ma che c***o perché non è che c***o ma che c***o ma che c***o ma che c***o e che c***o ma che c***o anna intro re ma che testa di cazzo tanto non sta parlando marco mezza comunque oddio oddio qui vai trenino thomas godo 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 che cazzo non si può essere un po' a foto la la data dai ti lascio segnare dai passiamo sto per play la tope doveva recuperarla e lo ha fatto e spara mamma mia che saltiamo perchè non capivo c'è cliccavo x quello si era bloccato a far sesso di apporto che cazzo stai dici io po' l'hai inculato l'hai vista che te ti ho che schifo aspetta veda che gol che ti prendi no adesso mi mette la sopposta media guarda che gol che ti prendi da zampagna vieni ti affettata di gol vieni vieni no ok ieri ma che giocata abbiamo fatto attenzione zampagna 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 no sei mancato tutto sei impallato il gioco ma che cazzo è successo no ma no ma non ci credo usare il get up su pes no attenzione zampagna la tripletta di zampagna la tripletta di zampagna la tripletta di zampagna non poteva far nulla su quel passaggio no pericolo porra troia pericolo pericolo attenzione e lui pensava che la passava capito attenzione riuscirà ad andare a segno lo sapevo lo sapevo infame infame ah qui mica cascano i suoi mica cascano guardalo madonna l'ho visto dentro lui ho preso palo dall'altra parte no 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 sapevo che tanto la passavi strada no no pensavo continuosi davanti questo è come per vendicarvi dell'altra volta che può testa di cazzo ma non ho capito nulla no perchè quando ho tirato il rigore la gaffa in bel fu non lo mai salvo salvo tutto a colpa del gol di punta cazzo ZAMPAGNIA! 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 Ne ha fatti tutti lui! Che partita, signore, ragazzi! Ne ha fatti tutti lui! No, ma raga, non si può tornare così, eh! Che ritorno su PlayStation Live! Messa in area! Guarda che infame! Si gira anche! Guarda che infame! POKKCON! Si è girato Giroud! Ma questa volta si è girato Serahi! Ma addio! Si è girato Serahi! No, 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 no! Doppietta di Serahi! Come con il derby di Milan! Di nuovo Giroud e nuovo Serahi! Buona posizione! Manco Sman se ne da lì dopo! PUTTA DELLA TRAVERSA! Come Ronald! Come Adriano! Dai 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 dai! Dai dai dai! Scarta sto portiere! Toh, stronzo! Dai! 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 E' appunto! Stai zitto! Via! Non si credo! Ma non si credo! Talcani! Ha segnato Talcani! Si ma hai visto che ha spostato le mie giocature! Aspetta! Guarda, guarda il replay! Allora... Iovo! C'è, l'ha mandata l'indietro! L'ha mandata quell'altra! Non riusciva a passare in avanti! Iovo! Mi fa ridere! Iovo! Ancora sul pallone! Posizione interessante qui! Dai! Dai in 3-2! Dai in 3-2! Forza ragazzi! Iovo! 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 PORCA TROIA! È arrivato dove nessun uomo è arrivato! Sarà a calcio d'angolo! Che c'è questo? Gio... Gio... Rudi un po'... Vai! Vieni qui, vieni qui! Marmea! Non ci credo! Non ci credo! Dai! 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 Merdezzaro! 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 Draco Polcai! Io t'ho fatta... Ma che cazzo! Ah no! Rosso! Radiroscio! Malaris stando! Malaris stando! Mi sa che finisce qui eh! Nooo! Altri rigore! Non se ne può più! Che boh! Andiamo dubito così! Non cambiare nessuno! Hai cambiato! Basta! Ha messo ridondigno come ultimo! E via! Nooo! E via! E via! Nooo! Sì! Sì! Che infame! Talcami! Lo sbaglio! Hahaha! Io ho pancappato apposta! Trunzo! Ah così! Ah! E poi ringrazio che non ci sono i cucchiai! Io ho! Arghen! Chiretzu! Via, 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 via! Attenzione! D'ho questi giapponenti! Chiretzu! raramente sbaglia raramente sbaglia raramente sbaglia porca troia antarbolan diopo ma è l'ottico di noi attenzione decisivo man ben Antonio e sulla battuta c'è lui sulla battuta c'è lui c'è ridondigno la frase di Marco Mezza non deve sbagliare altrimenti i tifosi lo strangolano bene ragazzi è stato un piacere Smonti saluta ciao a tutti i ragazzi dopo queste partite abbiamo fatto il migliore episodio ecco come sento ciao ragazzi no questo è il migliore davvero ciao ragazzi rock and rock